Ciao, benvenuto nel canale Momento in Cristo, è bello averti qui. Questo video è una preghiera di guarigione dedicata a Santa Luzia, patrona della salute e della vista. In esso chiediamo alla Santa di illuminare e guarire i nostri corpi e le nostre menti, darci la forza per superare le difficoltà e proteggerci da ogni male, unisciti a noi una meditazione guidata mentre preghiamo con fede e devozione affinché possiamo trovare conforto e sollievo nella tua presenza divina. La tua luce divina, sempre. Iscriviti al canale e lascia il tuo mi piace. Preghiera di guarigione a Santa Luzia chiedendo protezione e benedizioni per la salute e la vista. Che la luce di Santa Luzia illumini e guarisca il nostro corpo e la nostra mente, che possiamo sentirne la benedizione e la forza per superare tutte le nostre difficoltà. E possiamo trovare conforto e sollievo nella tua presenza divina, affinché possiamo vivere in pace e salute, grati per la tua bontà e il tuo amore. La preghiera di Santa Lucia ci guidi nei nostri viaggi e ci protegga da ogni male, e possiamo sempre trovare conforto nella sua luce divina. O Santa Lucia, di cui hai preferito partire, fatti cavare gli occhi. prima di rinnegare la fede e contaminare la tua anima. E Dio con un miracolo straordinario, ti ha dato altri due occhi sani e perfetti, per ricompensare la tua virtù e la tua fede, e ti ha reso protettore contro le malattie degli occhi. Mi rivolgo a te per proteggere la mia vista, e guarisce la malattia dei miei occhi. O Santa Lucia, abbi luce nei miei occhi, in modo che io possa vedere le bellezze della creazione. Abbi anche gli occhi della mia anima, fede. Incontra il mio Dio. Comprendere i suoi insegnamenti. Confesso il mio amore per te. E non perdere mai il sentiero che mi porta dove sei tu. Santa Lucia ci incontreremo. In compagnia di angeli e santi. O Dio, ti appello per Santa Lucia, Vergine e Martire, patrona di tutti coloro che soffrono di malattie degli occhi, rimuovi o cura le malattie che danneggiano i nostri occhi. Donaci occhi attenti ai tuoi miracoli, ai bisogni e alle sofferenze dei nostri fratelli e sorelle. La benedizione di Santa Lucia aiuti a contemplare la tua gloria, presente nel creato e nell'eternità. Credo in te, Santa Lucia, protettrice dei ciechi. Io credo in te, Santa Lucia, di buone novelle, messaggera. Ti supplico, O Santa Lucia, dammi una buona visuale per vedere le meraviglie del creato. O mia Santa Lucia, Lucia, cara Santa, i miracoli della creazione sono i miracoli della vita. Voglio vedere questi miracoli. Voglio vedere questa magia. Voglio la luce nei miei occhi. Voglio vedere Santa Lucia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Speriamo che tu ti sia sentito accolto e confortato da questa preghiera di guarigione a Santa Lucia. Non dimenticare di iscriverti al nostro canale, attivare le notifiche e lasciare il tuo mi piace per ricevere altri video con preghiere e meditazioni guidate. Insieme continueremo a trovare la pace, salute e protezione divina. Grazie per aver guardato. 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 Grazie per aver guardato.